Tecnicamente il corso di oggi come si configura? Il corso di metodi di prospezioni geolettriche si configura come un corso di 48 ore organizzato dal centro di geotecnologie dell'Università di Siena ed ha come obiettivo quello di fornire a studenti e professionisti le basi applicative per operare con metodi di prospezione geolettrica nei vari settori della geologia applicata, quindi operare e applicare le varie strumentazioni per le ricerche geologiche di base ed applicate appunto a quello che riguarda il senso nato della geologia applicata.